Musica Migliorare i servizi ai cittadini è l'obiettivo di una serie di progetti promossi da Criatnet presentati stamani in provincia a Trento. Criatnet è destinato ad occupare un ruolo di rilievo a livello europeo nel campo delle nuove tecnologie di comunicazione grazie al coordinamento di tre innovativi progetti di ricerca sull'internet del futuro che vedono tre vere partner anche due realtà locali, Gruppo Dolomit Energia e il Centro Ricerche Fiat. Insieme a due protagonisti industriali italiani quali Telecom Italia ed Engineering Informatica Criatnet si è classificato tra i primi 30 enti e aziende europei che hanno visto finanziati più progetti nell'ambito delle nuove tecnologie. Il Centro ha pertanto acquisito il coordinamento tecnico del progetto Infinity che ha l'obiettivo di identificare le infrastrutture potenzialmente adatte ad ospitare la sperimentazione di nuove soluzioni e architetture dell'internet del futuro a livello europeo, nazionale e regionale. Il coordinamento del cluster Trentino, comprendente un'iniziativa pilota all'interno del progetto OutSmart volto ad ottimizzare la gestione delle infrastrutture urbane, in particolare i servizi idrici, rendendoli più intelligenti e migliorandone ulteriormente l'efficienza. Il Centro inoltre è coordinatore di Icor, nuovo progetto integrato sul tema Internet delle cose, tra i più importanti a livello europeo, che permetterà la messa in relazione di oggetti fisici e virtuali, abilitando dunque servizi innovativi, progetti che apporteranno notevoli benefici alla comunità trentina. Cambia che nell'internet del futuro tutto quello che noi adesso al cui siamo abituati continuerà ad esserci l'acqua, continuerà ad uscire dal nostro rubinetto, i rifiuti verranno raccolti, ma in maniera più intelligente, cioè queste infrastrutture saranno in grado di essere più efficienti, di avere meno perdite di acqua, di raccogliere i rifiuti quando sono veramente presenti e non quando non lo sono, e quindi tutte queste tecnologie in maniera anche trasparente a noi stessi renderanno più intelligenti tutti i servizi pubblici, rispermieranno costi e consentiranno effettivamente poi di dare servizi un po' più avanzati e anche i cittadini stessi di utilizzare queste tecnologie in maniera più semplice, senza doversi ingegnare a come farle funzionare. I tempi per l'attuazione? I tempi sono rapidi, qui parliamo di progetti che nel giro di tre anni devono portare risultati concreti. I tempi per l'attuazione?